Sono le 17 in punto, buonasera e benvenuti a TGNORPA24, il nostro sommario. La Basilicata dell'Arte e della Fede in mostra a Roma sotto il colonnato del Bernini in piazza San Pietro. La Basilicata dell'Arte e della Fede in mostra a Roma sotto il colonnato del Bernini in piazza San Pietro. Fotografie e sculture del Rinascimento Lucano e sei splendide madonne in legno. Vediamo. Conoscere la Basilicata ma farlo a Roma presso il Vaticano. Non solo il presepe artistico in piazza San Pietro che riproduce Matera e i suoi sassi. Ma anche la mostra sulle tradizioni, l'arte e la fede, ospitata nel braccio di Carlo Magno proprio sotto il colonnato del Bernini. L'esposizione, promossa dalla regione Basilicata, dall'APT e dalla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, presenta attraverso gigantografie e pannelli uno spaccato sul sacro e sulla pietà popolare della terra lucana. Un percorso che parte proprio dal carro trionfale della Madonna della Bruna, un po' il simbolo delle grandi feste di Basilicata. Poi il benvenuto lo danno le poesie sulla Lucania dei poeti sinisgalli, scotellaro, pierro, con la voce e i versi di Mario Trufelli. Il visitatore viene quindi accompagnato attraverso una sequenza di immagini fotografiche, tra i riti e le espressioni della devozione popolare, o tra gli affreschi della civiltà rupestre e della morgia materana. Non solo filmati e fotografie, ma anche opere d'arte e originali nella sezione I segni del sacro, la scultura lapidia, la scultura linea e la fresco, in cui è esposta la produzione sacra del Rinascimento Lucano, con sei splendide madonne scolpite in legno. Insomma, un'occasione in più, fino al prossimo 3 febbraio, per scoprire la Basilicata stando a Roma, a pochi metri da Piazza San Pietro. Per ora è tutto, grazie per essere stati con noi, a più tardi.